Ciao Francesca, oggi ci troviamo alla Dispoli, siamo qui con gli amici di Animo Basico Animo Basico è una realtà certificata vegan ok, dove si può fare un'azione, un brunch, comprare prodotti vegani fare dei trattamenti e fare anche delle visite con specialisti del mondo vegan Sono in compagnia di Ornella, una delle due menti ideatrice di questo progetto e di questa associazione alla quale chiedo semplicemente ma come ti è nata l'idea di aprire questo locale favoloso, bellissimo e ci vorrei anche dormire stanotte qui alla Dispoli, come ti nasce questa idea? Ci nasce perché è stato il coronamento di un nostro percorso di vita abbiamo incontrato tante brave persone, tante persone che ci hanno spiegato come si può vivere in modo non cruento e quindi abbiamo deciso di prima di tutto praticare noi e divulgare come sempre tutto quello che nell'arco della nostra vita professionale e umana ci è capitato di vivere e abbiamo aperto questo locale polifunzionale che è un punto di aggregazione, di incontro dove la gente viene e ci dice molto spesso sembra di stare a casa Esatto, è vero, è quello che è sembrato anche a me stamattina sono arrivato, ho fatto una bella colazione vegana senza neanche dover pensare troppo adesso ho mangiato un bel pranzetto veloce e voglio un'ottima domanda veloce di gente ne ho vista tanto stamattina ma è sempre così tutti i giorni della settimana? Beh sì, fortunatamente sì anche se abbiamo aperto solo da 5 mesi e questo ci dà proprio tanta tanta energia e riusciamo ad avere oggi un polso della situazione che 5 mesi da sinceramente non avremmo mai immaginato Perfetto, una pillola di curiosità veloce ma poi sveleremo fra qualche giorno con Ornella si sta pensando a qualcosa di più su questa zona di ladiscoli quindi vi salutiamo tutti e due silenzio e vi salutiamo con il nostro personale Go Vegan!